Istituita l'Agenzia regionale Sicilia Live per la promozione dello spettacolo dal vivo, sottoposta a vigilanza e controllo dell'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, pubblicate infatti sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana le norme che le istituiscono, la stessa è dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. L'Agenzia dovrà sostenere e promuovere sia sul territorio nazionale che estero il settore della musica dal vivo e delle arti performative, dalla produzione alla realizzazione degli eventi. La missione dell'Agenzia è sostenere i giovani musicisti emergenti, si legge nel comunicato, anche attraverso contributi per la realizzazione di CD e videoclip, finanziare le etichette discografiche siciliane, supportare le sale musicali, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica, identificare location adatte per la realizzazione di eventi dal vivo, promuovere e valorizzare il comparto della musica in Sicilia, creando una rete tra gli operatori del settore. Il prossimo step sarà l'approvazione da parte dell'Aggiunta regionale dei decreti attuativi per il suo pieno funzionamento, che in una prima fase verrà garantito dal personale regionale.